La cosa importante di questo paese, l'obiettivo più importante è che si deve togliere questo senso di provincialismo che si sta trascinando. E questo non per farlo diventare attore del mondo, ma semplicemente per rendersi conto di dove sta, dove ci troviamo noi collettivamente verso un mondo che ormai è diventato totalmente piatto. Io da incosciente sono andato al programma Che Tempo Che Fa, da Fazio, e ho sparato un numero di fatti che erano totalmente precisi, di una logica proprio chiara. La reazione immediata di un paese che si sentiva attaccato dice Marchionne vuole andare dall'Italia, Marchionne dice che se se ne va dall'Italia sta meglio perché perlomeno non perde. Tutte cose fattualmente vere, sono cose vere, perdo soldi, l'Italia lo scorso ci ha costato mezzo miliardo di euro in un sistema che ha generato più di 3 miliardi di utili operativi per mantenere il sistema Italia. Tutto questo fatto in cambio per un impegno nostro con le parti sociali per ricreare un futuro diverso. Quel futuro là è il risultato di un'analisi che facciamo noi quotidianamente nelle nostre esperienze globali nel mondo. Il mondo lo conosciamo, lo conosciamo perché lo giriamo, lo giriamo continuamente, abbiamo attività dappertutto, abbiamo attività in più di 190 paesi in tutto il mondo. Quando uno ti porta questo tipo di esperienza lo mette a disposizione del paese e tu vieni criticato perché sei anti-italiano. E' il momento che tutti i domani dicono ma scusa perché lo sto facendo questo, no? Cioè la panda è un pomigliano, non è una scelta intelligente. Mi costa quasi mille euro di più di quanto mi costava in Polonia. L'abbiamo fatto perché riconosciamo l'importanza di avere una rete produttiva in questo paese che sia capace di competere con altri stabilimenti, altre realtà produttive del paese. L'unico modo per cominciare a sgretolare questo provincialismo è dare l'opportunità, uno, ai giovani, a gente come voi di andare a lavorare fuori e di ritornare da casa. Claudio Costamagna che continua a martellare è stata la maggior parte della sua carriera e l'ha fatta al di fuori. Si impara molto andando fuori. Si vive una realtà completamente diversa da quel tipo di comfort che abbiamo noi in Italia, di andare al bar, di andare a fare questo, di fare le stesse cose che facciamo con una certa abitudine. Il fatto che le ferie noi le prendiamo in agosto. Nel 2004, vi dico una cosa, io perdevo 5 milioni al giorno. Sono arrivato il 4 giugno nel 2000, il primo giugno, il 4 giugno, non mi ricordo. Poi da quel momento là sono diventati i giorni uno dopo l'altro. Io stavo girando per il mondo, il mese di luglio, li vengono insieme in Italia, vado in ufficio ad agosto e non c'era nessuno. 5 milioni al giorno, eh? E ho detto, la gente dove è? Ah, sono in ferie. Ho detto, ma in ferie da cosa? Mi sono trovato con un altro che me l'ho portato dietro, un finanziario che ha vissuto con me per vent'anni. Stavo in ufficio, ma non c'era una persona. 5 milioni al giorno. Un'azienda che fondamentalmente era una multinazionale, dove in Brasile se ne fregano di agosto. In America agosto si lavora. La FIA chiudeva. Quindi anche questo atteggiamento estremamente provinciale, di dire noi siamo la FIAT e come tale stabiliamo quando il mondo va in ferie, è una perrata, no? Non è assolutamente vero, il mondo se ne frega. Se ne frega che siamo belli, se ne fregano il tempo che abbiamo belle macchine, se ne fregano il fatto che siamo capaci di cantare. Sono tutte cose che a livello internazionale non contano niente. Io ogni volta che vado in giro con gli americani mi parlano e dicono, ah, we just love Italy. No? Dice, we love to come there, we love to come there on vacation. Yeah, would you invest in a country? Oh no, 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 we won't do. Nel discorso con la Opel mi sono incontrato con il capo delle Ige Metal, un certo tizio che si chiamava Franz, che odiava la FIAT per ragioni storiche, ai tempi dell'alleanza con la General Motors. Me lo ricordo, lo incontrai a Berlino, entrò nell'ufficio, primi cinque minuti mi spiegò in dettaglio che lui era un grandissimo fan dell'Italia, che si era comprato un rustico nelle Marche, che ci andava ogni anno con la famiglia d'estate. Io ho ascoltato, è incoraggiato da questo tipo di apertura verso il paese, verso gli italiani, e per la prossima ora, dopo che abbiamo discusso il rustico, mi ha fatto un tombino dicendo che noi eravamo la gente più incompetente, più inaffidabile. Ma guardi, sono uscito da quella riunione completamente distrutto, con un'opinione così negativa del paese che lo sede. Dobbiamo rompere, dobbiamo smettere di vergognarci di essere italiani. E l'unico modo per farlo, questo, è per diventare credibili e affidabili a quel livello là. Il fatto che noi qui dentro pensiamo di essere veramente intelligenti non vale un caraco. Andiamoci a misurarci di fuori, andiamo a concorrere, andiamo a competere, ci mettiamo sullo stesso tipo di... di tappeto dove stanno gli altri. E poi vediamo un po' se stiamo capace o meno. Se c'è un messaggio che bisogna portare a casa continuamente è il fatto che la nostra importanza come business, come eccetera, viene misurata a livello globale e non a livello nazionale. E questo qua non vale più niente. Il fatto che noi siamo bravi in Italia non significa più niente. Grazie.